Allora, credo, vedo che Michele Scalpita, penso che siamo pronti, allora invitiamo il presidente di giuria, appunto Michele Trotta, sul palco perché è arrivato il momento di celebrare i vincitori di questa tappa importante che accedono direttamente alla finale. Michele, scusami, non ti sente nessuno. Pronto? Eccolo qua. Per cortesia, se mi fate un saluto a Tony che mi sta chiamando il Mago Tony, vi saluto a tutti. Ogni tre secondi si scusa dicendo che purtroppo per la febbre è a letto. Allora, per la prima categoria, la famiglia Palmacci, rimanete qui per le prime azioni? Rimanete ancora? Ci sono, ormai abbiamo fatto 30. Se rimanete ancora, se vi accomodate di nuovo in giuria, perché vi devo dare una bella sorpresa. Allora, per la categoria 7 e 9 è già stato fatto il vincitore, altrettanto per la 10 e 12 anni, per la seconda categoria, mentre per l'ultima categoria, gentilmente, un passo avanti, la signorina Ballina. Eccola qua. Applauso. Ballina qua davanti. Più avanti, più avanti. La signorina Lotti. Eccola qua. Cavallaro, signorino Cavallaro. Cavallaro, eccolo qua. E' Barlone. Barlone, no, mi eccola qui. Abbiamo quattro finalisti. Adesso funziona così, farete un salto dal palco. Voi siete qui davanti tutti e tre, perché tutti e tre avete lo stesso punteggio tutti e quattro. 64, siete arrivati tutti e quattro, 64 punteggi. Quindi il nostro regolamento, l'articolo 10, il nostro regolamento dice, se durante una selezione o nella finale si ha una parità di punteggio tra due o più concorrenti della stessa categoria, si dovrà ripetere solo il ritornello per designare un solo vincitore. Quindi ricantate di nuovo tutti e quattro. Grande spareggio finale. Grande spareggio finale. Attenzione, attenzione. Mentre per gli altri vincitori dovranno aspettare un attimino le altre. Sì, sì, sì. Allora, possiamo fare, scusami Michele, possiamo fare pure che cantano un minuto della canzone, ognuno. Un ritornello, un piccolo ritornello. Vabbè, perché poi se fanno partire con la base, se lo facciamo con la base, parte dall'inizio. Quindi, insomma, ragazzi, un minuto della... Decidete se farla a cappella o se c'è... Inizia prima. A cappella? Preferiscono senza base. Allora facciamo così, prendete il microfono. Allora inizia... Ballina prima, dai. Prendete il microfono. Ballina allora. Così ve lo passate. Aspetta che... Finale veramente col botto, devo dire. Allora, Ballina la prima. Ballina. Marta, Marta. Devo parlare dagli amici. Come vuoi tu, a cappella. Chiudo gli occhi e vedo te. Trovo il cammino che mi porta via. Dall'agonia sento battere in me. Questa musica che ho inventato per te. Se sai dove trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Se il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei. Quello che vorrei vivere in te. Marta va bene. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Angela Lotti. Angela Lotti. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà 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 Marta, però Cavallaro Brava, vai vai, Gianluca Fatto? Allora Cavallaro, come è il nome di Cavallaro? Sì, Cavallaro di nome, di cognome, di nome? Gianluca Cavallaro Sì, io metto solo il cognome Quando vuoi Sparirò, contaci Non saprai più dove sono E capirai che con me Non potevi andare lontano E saprai dar di più Trovo un uomo che sia buono E che ti ami più di me Anche se io credo sia Anche se io credo sia Anche se io credo sia Impossibile E bravo Gianluca E ultima, Barlone, Naomi Attenzione Ti fa bene e ti piace Questa voglia di dare E ti senti capace Non ti puoi più fermare Come il fiume è la face Che si getta nel mare Quando nasce un amore Un amore E' l'universo che si svela Quante parole in una sola Oh, amore mio Immenso e puro Ci penso io A farti avere un futuro Oh, amore che Sa già chiedendo strada Tutta per sé Naomi Ok Ci hanno stupito fino alla fine Devo essere sincero Anzi, senza base Rendono ancora di più la voce Un attimo che mi ritiro Faccio i conteggi finale Ok Mi state facendo rivivere La finalissima Perfetto, è vero Siamo veramente Una puntata suspense Totale Io colgo l'occasione Rilassatevi Rilassatevi Tranquilli Non c'è problema Tanto qualcuno vincerà Ma gli altri sono comunque Tutti in gara Perché insomma Si può partecipare Ci sono diverse tappe Nel frattempo Continuo a ringraziare Tutti gli sponsor Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti